Buonasera ragazzi, oggi vi farò un piccolissimo video parlando di giochi, secondo me qual è stato il miglior gioco creato dalla PS1 o dalla PS2? Ci sono anche dalla PS3 e PS4, per me sono stati tanti, io faccio la PS1, a me mi piaceva molto molto la saga di Duke and Hugen, poi mi piaceva Metal Gear, Simpon Fighters, Dino Crisis, questi mi piacevano dalla PS1, poi giustamente Crash, e sentivo il primo solo nel terzo, poi nella 2 pochissimo, e sentivo Godice Veronica, e sentivo Out of the Break, poi non mi ricordo altri giochi, Devil May Cry dall'1 al 3, God of War dall'1 al 2, Così di Amawa, PS, FIFA, SmackDown, poi dalla PS3, qualcosina, Devil May Cry 4, FIFA, PS, SmackDown qualcuno, dalla PS4, pochissimo, pochissimo, non mi piace proprio la PS4, Io sono rimasto nei giochi vecchi, quelli della Nintendo e della PS1, ah, della PS1, mi sono dimenticato anche Bugs Bunny, il primo, non quello con tazza, Bugs Bunny, è bellissimo, Io viaggiate un pochissimo, e viaggiate un po' con Bugs, da un altro non mi è mai piaciuto quello con tazza, no, comunque hanno bei tempi, bei tempi, bei tempi, era la PS1, era bei tempi, PS2 anche, poi la PS3, sa, 3 e 4, troppo movimentate, a me piacciono bei giochi rilassanti, dove ti puoi rilassare, dove ti puoi concentrare, Ma, secondo voi qual è stata la miglior PS, il miglior gioco?